L'albitro quella, la colpa da quella, la colpa dell'altro, famo schifo famo! Piano, piano, dai. La squadra indegna, primo tempo, casa 65 mila spettatori, sembrava l'acce in Brasile. Porco Dio! No, Ale! Porco Dio! No, Ale, allora! Porco Dio! Ale! Porco Dio, ti senti questi, i rigori! Mannaggia la madonna! Oggi mi fate proprio sbloccare! Ah, sì! Oggi mi fate proprio un cassa proprio di brutto, uai! Eh, è la prima cosa! Vabbè, è la prima cosa! Vabbè, è la prima cosa!